Noi siamo Politeater di Città di Castello e lo spettacolo che presentiamo si chiama Bubikoff, una tragedia comica per Pupazzi. È uno spettacolo che è nato grazie alla collaborazione con Neville Tranter, che è un bravissimo e famosissimo burattinaio regista australiano che vive in Olanda, col quale abbiamo seguito un percorso di formazione che poi ci ha portato alla realizzazione di questo spettacolo. Bubikoff narra la storia di una compagnia di cabaret che si trova a vivere momenti difficili e anche se non viene mai rivelata apertamente l'epoca, è chiaramente ambientato durante il periodo della Repubblica di Weimar, dove a fianco ad un'esplosione di cultura c'è stato anche quello che poi ha prodotto la cosa più tremenda del Novecento e gli artisti si sono trovati in mezzo a questa tragedia e questa è la storia che volevamo raccontare. Tanti auguri Festival di Resistenza, noi siamo onorati di essere qui a Casa Cervi, è veramente un sogno che si realizza perché portare il nostro spettacolo, che ha una tematica così affine a questo luogo, in un luogo importante come questo veramente ci onora, non potevamo immaginare una cornice migliore. Tra l'altro oggi è anche l'anniversario della liberazione di Città di Castello, della nostra città, e quindi lo sentiamo in maniera ancora più significativa e ci auguriamo che la memoria dei fratelli Cervi e di iniziative come queste siano veramente resistenti a qualsiasi tipo di epoca storica, di amministrazione, di cultura, perché questa è veramente la radice più profonda della nostra cultura, l'essere antifascisti e l'essere amanti della libertà. Come già Damiano in parte ha detto, a noi interessava raccontare appunto come l'arte può essere sinonimo di resistenza in tempi difficili. I nostri personaggi in Bubikoff si trovano ad avere a che fare con quelli che noi chiamiamo i cani sciolti, un gruppo armato reazionario che appunto cerca di limitare il più possibile la libertà dell'arte. Ma l'arte è una forma di resistenza importantissima e quindi secondo noi fare teatro, fare arte, significa appunto anche resistere alla perdita dei valori umani che albergano in ognuno di noi e quindi secondo noi è molto significativo ed è molto affine. Ecco, il teatro è una forma d'arte che può essere resistente, può resistere, può contribuire a mantenere vivi in tutti noi i valori nei quali crediamo e nei quali credeva anche la famiglia Cervi.